Per cui noi anche su questo continuiamo a lavorare, ma siamo convinti che alla pace si possa arrivare solamente quando la Russia cesserà le ostilità, gli attacchi agli obiettivi civili. Il Primo Ministro ha ringraziato l'Italia per i generatori, l'energia elettrica che noi abbiamo aiutato a fornire alla popolazione ucraina. E il Primo Ministro ci ha detto che grazie al sostegno italiano, grazie anche al sostegno italiano, i nostri civili, i nostri cittadini hanno superato l'inverno. Perché quello che sta facendo la Russia, colpendo sistematicamente le infrastrutture civili, le infrastrutture energetiche, vuol dire cercare di piegare la popolazione con il freddo, con la fame. E noi abbiamo difeso quella popolazione e penso che l'Italia debba essere fiera di questo.